il capo leghista la lancia in vista del voto in sicilia la frenata di forza italia presenteremo una nostra lista matteo salvini lancia il laboratorio sicilia per le prossime regionali siciliane a cui tutti nella lega attribuiscono un valore strategico e di traino in vista delle politiche 2023 e pazienza se i nodi nell'isola maggiore sembrano i più intricati tra i molti che nel centro-destra sono ancora da sciogliere e così la prima reazione da parte degli alleati è assolutamente gelida salvini ne ha parlato ieri durante il consiglio federale leghista in vista delle elezioni in sicilia è allo studio una lista che potrebbe accogliere varie sensibilità del centro-destra il coordinatore siciliano nino minardo cita come possibili destinatari della proposta gli autonomisti i centristi e i civici la lista avrebbe già un nome prima l'italia non è banale che il capo leghista parli di un progetto che almeno da quel che si può capire oggi farebbe scomparire dalle liste elettorali il simbolo della lega è vero i maliziosi fuori e anche dentro la lega annotano che far scomparire l'albertino in sicilia non è come farlo sparire in lombardia o in veneto il simbolo con alberto da giussano infatti pesa ovviamente assai di più nelle sue roccaforti e anzi ha annunciato salvini nei prossimi mesi tornerà a sventolare anche a pontida dopo i due anni di stop causati dalla pandemia l'idea della federazione secondo quanto si spiega dentro la lega avrebbe avuto un avallo importante quello di silvio berlusconi che durante la festa per l'unione con marta fascina ha attributato riconoscimenti importanti al segretario leghista unico vero leader italiano in realtà alla festa si è parlato di federazione in termini generali senza riferimenti alla sicilia eppure il primo no sembra arrivare proprio da forza italia in sicilia presenteremo la nostra lista mentre il coordinatore azzurro gianfranco mici che parla di scelta intelligente generosa e coraggiosa da parte di salvini così si rafforza l'alleanza e aumenteranno i consensi per la coalizione come a dire che ci sarà la lista prima l'italia ma anche quelle del centrodestra nazionale ma salvini è convinto che berlusconi si convincerà